Ok, puoi partire. Adesso c'è la pista che si sta già asciugando meglio rispetto a prima, rimane umida in vari punti, quindi più che altro la frenata e in certe varianti magari la senti, scivola ma stando poi anche alla corda scivola di più. Perfetto. Il dietro a volte può partire all'esmo ma poi lo senti, lo senti un attimino. Stai qua, hai già girato, hai già avuto? No, la prima volta. Ok. Ho girato diversi anni fa con un maggiolone. Ah, vai. A un raduno. Tu stai, ce l'hai ancora? No, non ce l'ho più. Allora qua adesso devo capire un po' la macchina. Seconda? Perfetto. Seconda? Sì, sì, qua di seconda. Sono in terza. Adesso quando arrivi puoi scarire tutte le marce, seconda e poi inserisci. Ok. Qua ti tieni più largo che poi iniziamo a... Qui è curvata, da fare quasi piena. Teniti in quarta. Non stringere adesso subito troppo, stai a metà carreggiata. Metà? Sì. E vai. E puoi tenere giù. Poi qua di solito puoi fare quinta. E arriviamo alla roccia. Ok. Adesso vai di freno. Minchia se frena. Sì. Soltanto che frena di più perché poi vai dritto, eh. Qua? Perché scivola. Vedi? Eh sì. Ok. Qui la fai ancora in seconda. Arrivi a frenarla prima. Smetti la marcia che ti serve e poi inserisci. Perché se no arrivi pinzato qua e da tutto davanti. Qua? Qui adesso farai terza marcia. Frenala un po' prima e non andare alla corda. Perché è scivolosissimo dentro. Rimani al massimo qua. E già tanto, eh. Sì. Fai filo di gas e poi inizia ad aprire. Vedi, eh. La senti un po' terra macchina. Qui adesso puoi fare quarta un attimo. Se no, fai terza. E quarta, terza. Ok. Attenzione perché dentro a volte è ancora un po' umido. Comunque perfetto. Ok. Bello. Sì, sì. Adesso poi arriviamo alla scari. Fai quarta, quinta e sesta. Poi se ce la fai. Qua vado? Sì. Qui al serraglio è una piega. Vai tutto dritto. Cambio. Qui a frenare. Mantieni di un po' centrale perché è un po' più asciutta. Ok. Aspetta ancora. Vai. Frena adesso. Terza. Sostana si frena. Terza. Entri in terza. La mantieni in terza. Cordolo. Puoi se vai piano perché se no adesso si scivola troppo. Bravo. Mantieni di terza a filo di gas e inizia adesso ad aprire e la porti fuori. Senti ancora. Sì, sì, sì. Perfetto. È peccato caso. Eh, sì. Perché oggi poi girano così poche macchine che la stiamo asciugando noi. Ok. Adesso qua arriviamo alla parabolica. Ok. Scali e entri poi in terza. Prendi dopo i 200. Dopo? Sì, sì. Ok. Poi una bella sempre frenata prima e poi scali. Sperla, cazzo. Terza. Qui? Ecco, senti un po' dietro. Ok. Qui è giusta questa la traiettoria più o più d'asciutto. Qua oggi forse non premia. Quindi poi nel caso entri un po' più largo. Qui la fai scorrere fuori. Vai. Guarda. E vai. Qui il trucco è tagliarla. Così, perfetto. Quinta. Quando sei in gara qua tagli qualche metro. Adesso poi qua puoi metterla a setta. Benissimo. Qua passi i 200 e poi inizi a frenare. Ok, vai. Adesso freni bene. Quinta. Quarta. Vedi, seconda entri. Seconda? Sì, sì, seconda. Tento che qua ti far tirare il culo. Ah, buono. Sto già più asciugando. Ok. Eh, l'anteriore, vedi, devi essere proprio come se ci fosse sotto un uomo ad accelerare. Ok. Mantieni bene la quarta. Tieni un po' di gas e poi acceleri. Pena appena così. Eh, sì. Centrale? Sì, così va bene. Lo vedi un po' occhio. Qua dentro è proprio ancora bagnato. Ah, ok. Qui va bene. Apri. Apri poi, vai di quinta. Freno a quanto? A cento? Puoi frenare quasi a cento. Quasi. Qua frena bene. Frena forte, frenala di più. Terza. Seconda. Seconda? Sì. E poi entri dentro, perché sennò ti scivola. Vedi? E' che roba. Ok. C'è il controllo della trazione, eh? Sì, l'han tenuto oggi, perché è un po' più rischioso. Qua? Terza. Mantieni qua a metà. Qua. Qua. Centrale. Tieni, vai di gas così, lavora di gas. Ok. Apri. Bene. Ok. Terza, quarta. Qui poi dai la frenata. Terza. Mollai dentro i freni. Attenzione. Ok. Gas. Ok. Ok. Buono, buono. Bellissima, ragazzi. Qua piena, eh? Sì. Tutta piena. Poi vai di quinta. Benissimo. Adesso arriviamo sempre alla scari. Freno a? Qui frega tranquillo, sì a 200. Quarta. Questa è la terza? Sì. Metti terza. Lascia del freno. Vai su. Vai. Lavora di gas sempre e tieniti più stretto. Vai. Apri. Figa se va. Sì. Ottimo. Tu che macchina hai? Una Audi. Audi A5. Ma è quattro la tua? No, anteriore. Ok. Prenala bene. Ottimo. Certo. E non entrare troppo adesso alla corda. Tieniti più. Questa come mezza... Con questa linea qua. Ok. Apri. Apri e apri tutto. E la fai andare anche più larga, eh, la macchina. Ok. Tanto che apri così hai la ruota, lo sterzo un po' più dritto. La parabolica va proprio usata. Ah, ok. Va proprio usata tanto. Ottimo. Bravo. Ah, se la conosci bene la pista è un'altra roba, eh. Bellissimo, sì. Poi con questa vai tantissimo sotto a frenare, quando è asciutta. Eh, sì. È molto leggera la macchina, quindi va forte. Non capisco se la frenata... Eh, la frenata ancora... Sì, e ti tiene fino a un certo punto, perché poi... Hai capito? La macchina è leggera, quindi si blocca. Eh, bravo. Allora, è grande. Troppo. Infatti ho detto, vedrai che gli parte un po' il culo, ma è giusto che ti parta il culo, cazzo. Bravo. Sì, un po' ci vuole. Bravo. No, ma lì ti aiuta a girare. Sì. Perché se no davanti non gira. Quindi se ti parte un po' il culo, poi tu sei già un buono col sinistro. Giù. Giù, 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 che ce la teniamo. Bravo. Perché l'esterna è asciutta. Quinta. Bellissimo, cazzo. La devo provare con l'asciutto io. Frena bene. Frena di più. Prova a frenarla tutta. Sentila. Ah, ok. Seconda. Attenzione che qua ti partirà. Ok. Ci voleva, senza il controllo della trazione. Più bella, cazzo. Ok. La terza qua, vero? Sì, terza così, bravo. Mantieni così, giusto. E vai. Vai. Bravo. 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 Bravissimo, bravo, bravo, bravo. Hai la confidenza, stai capendo, bravo. Ma qua se mi dai un po' di giri qua, io... Certo. No, ma poi a me piace tanto guidare. Io lavoro in macchina. Sì, ok. Quindi per me la vita... Sì, sì. Ma meno male che uno come te lavora con la macchina, perché se no gli incidenti in autostrada io voglio. Ok, bravo. Terza. L'ho capito, ma giro più forte di questi o loro vanno piano? Allora, con quelle macchine lì oggi rischi di andare più forte con questa, ma se poi guida su un cliente, tu sicuramente vai più forte di loro, quindi a parità di guida tu sei più veloce. Quelli che salgono su quelle macchine lì, spesso è gente che non ha dimestichezza, vuole solo salire sulla Ferrari, ma se tu vai forte con questa vai anche di più. E poi oggi, con una giornata così con la Ferrari, praticamente, non gli faranno fare un cazzo. Non frenare, non accelerare. Bravo. Adesso dobbiamo rientrare i box, hanno dato il cartello prima. Ok. Andando veloce è durata di meno. Ho come guidato? Bene. Bravo, sì, sì, bene. Perché oggi, adesso, era ancora umido, vicido, abbiamo su delle gomme non da bagnato, la macchina è rigida, l'hai tenuta bene, la confidenza ce l'hai. E poi il limite lo vedi che vai avanti te, no? L'hai usata con la testa adesso. Eh sì, io di solito quando guido una macchina devo prima capire bene com'è, ha capito. Ma l'importante è quello, perché se anche io non capisco che la persona è così, comincia a dirgli... Rena, sì, no, perché prima o poi va in ghiaia e finita la giornata. Eh, infatti. Buono, buono. Bello. Sì, ti sei divertito più te di quello lì. Sì, sicuro. 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 Ottimo. Adesso vai di... Folle, basta, non frena mano perché se no si attacca la pastiglia. Perfetto, grazie mille veramente. E a te. Perfetto, grazie mille.